E via Regard Moua debattere per tutti, partiti per il bene guardo 2013. In vantaggio ci va subito Libano seguito da Oratorio Latino e Regard Moua per via interna e poi Salar Glorious che tiene all'esterno Blue Constellation. Libano quindi frontrunner con un paio di lunghezzo su Regard Moua che tiene a suo fianco il grigio Oratorio Latino, poi di dentro Salar Glorious con la giubba gialla nera Blue Constellation con le maniche Fuchsia che prova a gestirci all'estrema retroguardia. Libano che è libero di gestire in tutto come era prevedibile alla vigilia, Regard Moua lo segue in seconda posizione, Oratorio Latino che viaggia terzo a largo accompagnato mentre Salar Glorious segue lo stesso Regard Moua e Blue Constellation all'estrema attesa. Cavalli che nel frattempo competono la piegata che mette in retta d'arrivo, Libano è sempre l'unico di indicare la via, al suo insegnamento Regard Moua e Oratorio Latino che ha insieme a Blue Constellation, Salar Glorious invece per via interna, Libano che accelera in lunghe progressione a traguardo lontano, Regard Moua che adesso rompe in due giorni avanza, poi Oratorio Latino, Blue Constellation che è sotto di rimanere coperto e Salar Glorious per via interna, Libano in fuga, Regard Moua che accelga a riprenderlo, Oratorio che a sua volta si impegna in terza corsia, più dietro Salar Glorious e Blue Constellation, Libano che è ancora in vantaggio ai 300 finali, Regard Moua e Oratorio Latino che a loro volta intervengono a largo, gli alpi più dietro, Oratorio Latino che va all'attacco di Libano, lo sopravanca, tra i due Regard Moua, Oratorio Latino che passa di prepotenza, Oratorio Latino che nell'ultimo tratto si svincola e viene ad allungare, mentre Regard Moua strappa il secondo posto a Libano, poi Salar Glorious. Dottore di Oratorio Latino, l'Iviette Olivier Plasset che colpisce per il signor George Stierhans e il signor Mirosabais Altaï. Dottorio Lagino che va a vincere molto rettamente il bene guardo numero 3, 4,42 la quota del Vincente, mentre Regard Moua numero 4, alla meglio, nei confronti di Libano per la migliore piazza.